Le prestazioni sanitarie presso le strutture dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro non si possono più prenotare tramite il sistema del Cata Hospital. La provincia ha reso noto che l'azienda ospedaliera del capoluogo ha deciso di attivare un proprio centro unico di prenotazioni autonomo. L'interruzione del servizio unilaterale, come rimarca la provincia, interrompe l'utilizzo di un sistema che l'ente forniva in modo gratuito da oltre dieci anni, finanziandolo prima con fondi ministeriali e dal 2006 con risorse del proprio bilancio. Presso gli sportelli del Cata Hospital attivi nei comuni, nei punti IGEO e nelle farmacie, gli utenti fino ad ora hanno avuto la possibilità di prenotare visite specialistiche ed esami sia in ospedale che nelle strutture dell'azienda sanitaria sparse sul territorio della provincia. Ora il Cata Hospital rimane cup solo per i presidi dell'ASP e non si sa neppure fino a quando. La limitazione del Cata Hospital alle sole strutture ASP, prosegue infatti la nota della provincia, dal 1 gennaio non conta più sulla disponibilità delle farmacie, a seguito del mancato accordo con regione e azienda. La provincia avvierà pertanto una riflessione sull'opportunità di mantenere un servizio che non rientra nelle proprie competenze specifiche, ma che è stato mantenuto negli anni e messo gratuitamente a disposizione delle aziende sanitarie e ospedaliere proprio per la grande utilità che riveste per i cittadini.